Ieri nella chiesa di San Giovanni Bosco a Belluno il saluto affettuoso e riconoscente della comunità per il grande bene ricevuto a Don Guido Novella che lascia la parrocchia salesiana cittadina per Roma. Ecco un breve estratto da un'intervista più ampia che andrà in onda prossimamente in oltre il 2000. Che cosa pensi di aver dato in questi cinque anni e che cosa hai ricevuto? Ho cercato di essere così come sono con la mia povertà ma anche con il mio desiderio di bene e con la mia attenzione soprattutto per la bellezza, per il messaggio che deve essere comunicato anche attraverso le immagini, l'accoglienza in chiesa, la pulizia, l'ordine e anche per quello che mi è particolarmente sensibile comunicare attraverso tutti i linguaggi però così cercando di motivare poi soprattutto la gente a prendersi la propria responsabilità senza intervenire in modo da fare tutto io ma così lasciando responsabilità loro anche con pazienza anche se i risultati non sono immediati però credo che lasciar spazio ai laici è molto importante. Ho ricevuto tanta dimostrazione di affetto soprattutto adesso emerge in questo momento di partenza non pensavo che tanta gente avesse letto il mio messaggio così con semplicità fatto di questi elementi. Alle tue spalle la storia di Don Bosco, di San Giovanni Bosco che cosa ci racconta ancora e che cosa potrà raccontare ai giovani? Credo che i ragazzi di oggi abbiano tanto bisogno di essere ascoltati ascoltati con la compagnia, con la presenza anche semplice, così col sorriso senza pretendere da loro chissà che cosa se non vanno a messa, beh, stare insieme con loro poi maturerà attraverso il contatto personale anche l'adesione ai valori che noi vorremmo consegnare loro amate i giovani e i giovani ameranno quello che voi potete, volete proporre a loro dice Don Bosco credo che sia la cosa vincente per oggi Grazie 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 Grazie